Gemelli e due vuoi di bravissimi, guanciale, pelati e pecorino, questa è quella doc, quella vera, quella vera, poi si toglie il guanciale e si rimette l'occhio. Ce lo facciamo spiegare da loro, come si sa bene, spiegacelo. Abbiamo fatto strutturare il guanciale a freddo e poi una volta che era bello croccante l'abbiamo tirato su con la schiumarona e nel resto del guanciale abbiamo fatto il pomodoro. Adesso abbiamo fatto ritirare un po' il pomodoro e diciamo una decina di minuti a fiamma viva. E adesso prima di tenare, cariamo la pasta e rimuttiamo il guanciale dentro e facciamo un po' di risultato. Perfetto, la pasta adatta è il bucatino oppure il ricatore corto? Mezza manca. Io amo il bucatino. E' lo spaghetti. 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 E' il bucatino. Avete un sottosegretario preparato? Preparato? E' la due ragione. Perfetto. E' parla. E' la due ragione. Non l'acqua è? È un buon impeccfo.